A Pescara continua a salire il numero dei senza tetto e si teme per l'arrivo dell'inverno. Ieri è stato trovato senza vita un italiano di 57 anni, Augusto, trovato morto nei giardinetti vicino alla cattedrale di San Cetteo ad accorgersi dell'uomo. È stato un passante che ha subito chiamato il 118. I soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per cause naturali. Augusto ha seguito il triste destino di tanti l'ultimo qualche settimana fa quando un 45enne di origine rumene è stato trovato senza vita su una panchina di via del santuario, sempre a Pescara. La morte di Augusto conferma come tra i senza tetto non ci siano solo extra comunitari. Negli ultimi anni il numero degli italiani è in costante aumento. Corrado De Dominicis, direttore della Caritas Diocesana, Pescara Penne. Ma gli invisibili diventano visibili quando non ci sono più? A volte il rischio è proprio questo, che in momenti tristi come la scomparsa di Augusto ricordiamo queste persone e riusciamo anche a dare un volto e a raccontare la loro storia che purtroppo nella quotidianità sfugge nel tram tram quotidiano. Ma il nostro compito è ricordare di loro anche in tutti i giorni, soprattutto quando queste persone sono nella loro fragilità e sono vicino alle nostre case, nelle nostre strade. e non cedere alla tentazione dell'indifferenza, ma commuoversi e muoversi per dare loro un sostegno, per dare loro un aiuto e per accompagnarli come Caritas e come tutta la rete sociale di questa città facciamo quotidianamente. La Caritas non è solo mensamo, una serie di iniziative, c'è il dormitorio e molto altro ancora. e sono troppi i poveri e i nuovi poveri, che ormai tanto nuovi non sono più solo stranieri ma anche italiani, che accedono alle vostre strutture. Sono tante le situazioni di povertà e sono appunto quotidiane, ma noi vogliamo fare un appello in modo particolare oggi per questa domenica, per questa domenica che viene, che sarà la giornata mondiale dei poveri, l'ottava edizione e aspettiamo quanti volessero presso la cittadella, sul sito internet www.caritaspescara.it si può dare l'adesione al pranzo per passare una domenica diversa, per stare insieme a loro, per conoscerli, per guardarli negli occhi e per creare delle relazioni. Perché in fondo una delle più grandi povertà di questo tempo è proprio la solitudine. Lo stare insieme ci fa anche abbattere le barriere, le paure che noi abbiamo nei confronti delle persone che non conosciamo e magari far nascere il desiderio di un'amicizia, di un incontro che può accrescere la vita delle persone più fragili, ma soprattutto la nostra. Pescara è una città di passaggio. A Pescara ci sono molti senza tetto. Pescara è una città di passaggio, ha le dinamiche tipiche delle aree metropolitane e noi quotidianamente serviamo cento pasti a pranzo, cento pasti a cena. Mediamente, quando l'unità di strada fa il giro consueto, incontra tra i 30 e le 40 persone per strada. Quindi è una città dove è facile approdare e a volte rimanere con il proprio bagaglio di fatiche. Grazie.